Fortuna, tragedie, sviste arbitrali e risultati mancati, il Pescara si riprende tutto insieme, tutto in una partita, nell'anticipo di Padova, 6 gol della compagine Biancazzurra. All'inizio, come previsto, tutti in campo con la maglia numero 25 e quella dello sfortunato per Mario Morosini, morto a Pescara sul campo sabato scorso, anche a Padova, Moro era ben voluto e tutti lo ricordano. Ancora scosso dalle recenti tragedie che hanno colpito il calcio, vedi Franco Mancini, Zenec Zeman ridisegna il Pescara e risolleva il Pescara, autore di una partita da fantacalcio, Biancazzurri indemoniati, già nel primo tempo tantissime le occasioni da gol, al quarto doppia occasione, prima Caprari, Perin respinge con i piedi, poi il colpo di testa di Nielsen fuori di poco su traversone da sinistra, al nono Immobile entra da sinistra, tiro forte ma Perin si supera con il taglio della mano, dodicesimo, azione insistita di Insigne, tiro debole, Trevisan salva sulla linea di porta, la palla arriva a Cascione, ancora Trevisan salva in extremis, ventirovesimo Immobile scatta sul filo del fuorigioco ma tira addosso al grandioso Perin, riprende Caprari e non va. Anania si supera nell'unica occasione in cui viene chiamato in causa al ventunesimo, due giocatori del Padova in contropiede, il portiere se la cava. Trentasettesimo, viene concesso un calcio di rigore al Pescara, non accadeva da una vita, il fallo evidente su Cascione che viene agganciato da Portin, Ciro Immobile mette in rete con Perin che intuisce. Inizia il secondo tempo, la musica non cambia, e che musica ragazzi, ripartenza letale al settimo del Pescara, palla lunga per Insigne. Insigne fuori causa due difensori, Patavini e Perin battuto in uscita. All'undicesimo Lorenzo Insigne consegna agli annali una perla, un gol da Cineteca, imbeccato da Cascione che cambia gioco, punta due difensori e piazza questa palla all'incrocio dei pali. 3-0 per il Pescara, metà secondo tempo, ventitresimo, ancora i biancazzurri nelle ripartenze, Nilsen timbra il meritato sigilo su delizioso invito di Verratti, guardate Marco Verratti. Il danese non sbaglia ed è 0-4, poi il via alle sostituzioni Zemaniane, dopo mesi riecco Andrea Gessa al posto di Caprari, poi dentro anche Sansovini e Coni. I giocatori del Padova iniziano a picchiare come fabbri, innervositi. Al trentasettesimo arriva il quinto gol, immobile, finalizza la cinquina biancazzurra su assist di Sansovini, sovrapposizione di Ciro che con il sinistro fa 25 gemme stagionali. Ma non finisce qui, al quarantesimo anche Cascione timbra la rete del Padova, imita Insigne su respinta corta di testa di un difensore del Padova ed è 0-6. Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo. Grazie a tutti.